dove perdere milan c'è domani devi andare proprio la distruggiti entra proprio con la cattiveria in campo il problema è che quello non ce l'avevamo noi è quello il discorso mannaggia la troia una squadra che si approfittano mai dei momenti capito cioè al settantesimo tiri totali spezia 16 di cui quattro in porta e due gol e il milan e cinque tiri totali zero di rinporta non so vedere dominio dominio totale c'è il primo che ci ha preso bene il gol si è fatto di una faccia tipo si fa c'è su chi sto a giocare quando vinci a merito suo e quando perde colpa della come fa pure ronaldo no però io sai che dovessi dire fra i due volete o meno stronzo ronaldo c'è nel senso sì vabbè ci ho vinto due cioè almeno questo comunque si ha portato a casa cinque sei palloni d'oro quant'è insomma rispetto ai bravimi che c'è pure sì è vero il bravimi c'è dove andata vinto però c'è a me non fa quei interviste tipo io so dio l'altro non so nessuno capito c'è un po' più discreto ronaldo poi può essere simpatico o no è per carità quello quello sicuramente comunque stanno al sessantottesimo questo spazio sta proprio sta proprio a tenere il campo questa è una cosa bella è che taga della spazia insomma no no è il milan che sta cercando di uscire proprio a tre quarti cioè perché non ci riesce cioè gli stanno proprio galvanizzati 2 a 0 gli stanno proprio per forza c'è anche perché non è che c'è penso che adesso questo 2 a 0 manco di sta a tanta tattica cioè che te va inventare c'è una squadra come il milan con i giocatori che c'ha no infatti voglio dire tanto 2 a 0 3 a 0 cambia poco infatti che so che sono partite del tipo che se ti potete danno un gol cioè ho potuto un rigore una punizione ma te sto a vedere che a ospecie c'è tutta una difesa armonita tra l'altro sì sì che è stata tutta la prossima partita però gioca con un 4 3 3 molto spregiudicato insomma avesse una squadra insomma no ma guarda che gioca io ho visto pure la gioca si contro di noi poi c'hanno tirato la coppa italia insomma si si ci hanno fatto inducare quanto non ho fatto sette gol sette gol in quattro giorni no sapete praticamente sulla chat che c'ho il gioco diciamo no quella su whatsapp dove ci attamo di solito il gruppo di gioca questa è una foto dove uno che probabilmente sta urina contro un muro e tu sta scritto love non ha presa bene san valentino non ha presa bene non ha presa bene no ma sei riuscito a ricollegare te via sì stiamo online credo ah parche vera mica ti vedevo credo adesso te vedo non mi sarà aggiornato lo stato del canale però fa il finito di risistema un po' di risistaggio domani non sto a casa magari mi metto da domani mattina come no fiamola così stasera non so come si vede però tranquillo tranquillizziamo anche tutto il pubblico a casa non vi preoccupate se te te segui sul canale di Stowolf tornerà tutto alla perfezione tornerà tutto come prima esattamente dovete stare tranquilli va bene dovete stare un po' più tranquilli del Milan esatto dovete stare un po' più rilassati del Milan che stacchia la sveglia bisogna pure di che vabbè noi siamo un po' di parte perché comunque tutti e due di famo Roma però diciamo siamo sempre aperti a un dialogo perso mastico abbastanza ecco 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 lo spezia ecco c'è mancato poco mamma mia e comunque niente vabbè stasera partitore insomma perché a Juve è caduta con rigore diciamo un po' generoso a Napoli e poi comunque ho visto io la partita comunque l'hanno messi sotto Napoli ovviamente ha finito a tocchi e ci ha fatto male pure l'usano la partita è migliore migliore in campo insomma ha fatto dei parati con qualsiasi parte del corpo ovviamente vabbè i partiti è purtroppo capito nel senso il calcio è pure questo eh la partita storta ti capita sempre c'è poi lì non si capisce mai se io poi sulla sfortuna sì c'è può essere sfortuna la guasalità poi il fatto pure che prendi a palla da avversare non riesci a segnare non è una non è non può essere solo sfortuna nel senso vabbè calcolo il Napoli l'ha segnato si è messo dietro cioè quindi poi io penso hanno fatto pure un po' quadrato intorno all'allenatore perché se vociperava che sì sì esatto queste cose mi fanno ridere no? allora mi fanno proprio ridere queste cose perché allora al Napoli adesso sono un paio d'anni che non compra più nessuno cioè sono quei giocatori che c'hai ecco sono quelli hai preso un allenatore per proprio per cioè per mettere due top che comunque secondo me che a Tuso al Milan non aveva fatto male col materiale che c'aveva e non gli hai comprato nessuno Mertens c'hanno non più Gaiecon che a me non piaceva però comunque erano abituati a giocare quei tre davanti quindi cioè l'hai tolto Milik l'hai dato via alla fine che Milik era diciamo il grande attaccante che tu avevi comprato con la speranza di poterci fare bei soldoni come ci hai fatto con Cavani come ci hai fatto con Lavezzi come ci hai fatto con Iguain perché non ce lo scordiamo Iguain l'ha venduto a 100 milioni ma quando l'hai comprato aveva pagato 5.000 lire erano giocatori da rimette su quindi e con Milik gli ha detto sfortuna perché si è infortunato 17 volte e calla e non hai fatto più quegli introidi che facevi gli anni passati con la mega punta che ti compravi due o tre giocatori che ti servivano ecco finito il ciclo ed è una squadra che comunque non c'è avuto per i cambi sì è vero ha preso Manolas in difesa ma Manolas è andato via da Roma è sparito come fa voglio allo calcissimo non si è mai non si è mai integrato pure con Koulibaly con gli altri difensori centrali non si è mai creata una grossa alchimia quindi e quindi tutta questa cosa era per dire che mi viene da ride che stasera Gattuso era praticamente se perdono veniva licenziato cioè veniva esonerato con Kiko la partita contro la Juve cioè queste cose non le per carità ci possono perdere tutti Caio ci possono pure vincere alla fine non mi vado in test però capito con quale squadra tu dici se perdo tesonero con la campione d'Italia vabbè rimani un po' così rimani un po' basito quelle cose scelte societarie molto discutibili che pure a Napoli insomma ce l'hanno da ben ce l'hanno dei capocce strane pure lì è una piazza difficile partita di lavorare Nentes insomma accolgono veramente come come veramente un santone un santo sceso in terra ma poi riescono anche alle guidate in poco tempo quindi sì il problema pure la piazza nostra è uguale sì sì è uguale così poi noi siamo ricascati secondo me in quelle due tre cose noi noi c'è questa fissa che rimaniamo troppo ancora via al passato l'idom che ritorna per carità quando è tornato ha fatto pure vincere uno scudetto però ho capito il ritorno dell'idom il ritorno del zema il ritorno dei spalletti cioè secondo me nel calcio devi andare avanti quello che è stato io questa cosa me la spiego quello che vieni da parte quello che è cattivo ti deve fare da da insegnamento però devi andare avanti io questo me lo spiego da diciamo da una società non forte dietro la Roma da qualche anno secondo me gli manca una persona di riferimento che abbia personalità che non vuol dire una persona forte una persona che ha vinto titoli una persona che ha i soldi ma non parlo della presidenza parlo proprio di una persona che conosce il calcio e che sia in qualche modo trascinatore che coinvolga veramente anche tutto il gruppo tecnico a partita l'allenatore e la Roma questa cosa non ce l'ha perché non c'è gente almeno cioè nel senso dimmi se me sto a sbagliare se magari me sto a scontare qualcuno ma diciamo non ci stanno persone che veramente ci capiscono di calcio dietro la parte tecnica della squadra cioè un Rudy Feller dell'Evercruzan no? non ce l'hai quanto farebbe bene una figura così non dico Rudy Feller per un discorso di cuore mio ma una figura che comunque a livello dirigenziale a prescindere che è stato uno dei più forti attaccanti che ha avuto da Roma e il discorso di cuore io parlo prettamente discorso lavorativo ho fatto un gran lavoro nell'Evercruzan cioè assolutamente capito è un lavoro tangibile secondo te uno come Rudy Feller non farebbe un bel lavoro una Roma guarda se vuoi ciferava sta cosa addirittura per vari impicci del mercato che ci sono stati specialmente che i procurazioni scusa io ce l'ho vedete guarda non lo so sì sono d'accordo in parte però perché specialmente quest'ultimo frangente qua mi lascia chiede rigore aspetta Ibrahimovic dice che è stato trattenuto gli stati palla vede arvare capito arbitro se no io ti meno diciamo che comunque sia i vari personaggi a cui la Roma si è affidata in passato non erano proprio così astrusi al calcio il problema è che ripeto secondo me dietro pallotta c'è stato tutto un discorso che gli americani sono arrivati pur escursus mio veramente così è buttato là sono arrivati e si sono fidati di alcuni personaggi che già stavano qui dicevano che deve sapere quello che serviva alla piazza secondo me invece ci sono stati fatti errori che secondo me sono scaturiti dal fatto che è arrivato il presidente americano e è arrivato proprio da temeretta vincemo cinque anni regina d'Europa bla 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 ok quindi questa è una piazza che si fomenta queste cose hai fomentato la piazza la piazza poi che ha delle aspettative perché negli ultimi anni non è proprio stata una delle ultime piazze d'Italia ma è sempre la squadra che ti arriva seconda terza massimo quinta sei anni sei volte su dieci anni insomma esatto e quindi un po' di aspettative c'è là gli è mancato sempre quel poco per arrivare a vincere qualcosa fondamentalmente e quindi che è successo di conseguenza ti sei creato l'aspettativa sia dei tifosi ma di tutto il circo che c'è sta qui a Roma quindi ogni cazzata che hai detto che hai fatto te l'hanno fatta pagare centubblicata perché secondo me poi io non so di quelli pallotti era un pezzo di merda cioè pallotti ha fatto quello che vuole fare se è fatto i cazzi perché giustamente uno che viene a investire il calcio non è che abbutta i soldi perché che ne so se svegliano a mattina faccia il merito che ha preso una squadra che possiamo dire dopo undici anni via penso che non si scandalizza nessuno pallotti ha preso una squadra che stava a fallire scusa una squadra una società no non si affende nessuno perché è vero è vero questo ha arrivato ancora non lo ammette no pallotti è arrivato si è comprata una società fallita no che c'ha i buffi i buffi dappertutto a me mi ha piaciuto però nemmeno a me però bisogna darci a quel che dice sempre bisogna sempre analizzare le cose allora ha sbagliato secondo me affidarsi determinati personaggi io ci metto pure dietro Baldini perché Baldini aveva fatto il tempo suo se ne doveva andare però là c'è stato tutto un discorso che era legato allo stadio legato alle proprietà dei Parnasi e compagnia bella però non voglio entrare troppo in politica io voglio parlare solo di calcio madonna che parola fallo tuo che bene non c'è provato ma scusa a che minuto stai io sto a vedere una sostituzione eh cacca io sto col telefonico con l'app forse che sto un po' indietro mi dà l'81 e 56 quindi ah ok poi sto 82 e 49 no pensavo che stavo indietro io sì sto un po' indietro per forza dei cose perché no ma la zonna fa schifo no pure perché mi era partito un messaggio è un po' stoppato il tempo quindi ah ok ok quello che dicevo allora arriva il suo proprietario che fa delle comunque delle cioè che c'è anche delle intenzioni buone perché io non credo che questo è venuto a perdere qua cioè è venuto diciamo io non so che fa venga a Roma pia schiaffi a buttare i sordi cioè nell'arco della gestione pallotta è stata costruita pure una bella squadra cioè non ci scordiamo che fino a qualche anno fa c'avamo Salah c'avamo Alisson che comunque sono rivelati ma Roma c'è una provincia che dobbiamo comprare un certo momento storico ma io ci metto pure la mela cioè metto pure Marchinius no io per ditte Salah e Alisson che poi sono quelli che sono andati a vincere la Champions League certo hanno vinto tutto dopo esatto ma a centrocampo c'avevi De Rossina in Golan Strotman scusa sì sì cioè comunque con quella squadra non è un momento un cazzo uguale questo perché perché non è un discorso solamente da caribi e cacci i sordi e vinci cioè che poi c'è proprio che sa perché se vai nel campionato francese te compri non è una formula matematica esatto il calcio ha fatto dettagli ma se per Paris Saint Germain dovrebbe vincere tutti l'annia a Champions esatto quello che provano fa ma non ci riesco e quindi il discorso è questo ha sbagliato tanto perché secondo me si sono affidati dei personaggi che non lo so non hanno fatto il bene della Roma secondo me questo è il discorso io voglio accollare tutto a Pallotta perché poi alla fine Pallotta diceva oh ragazzi questo è il bilancio se compriamo così dove venne così e che è successo quando poi non vinci non ti entrano i soldi delle divisioni non ti entrano i premi non ti entrano le sponsorizzazioni che devi fare devi venire il giocatore Pallotta e l'unico ci ha messo dei suoi soldi tipo stadio capito poi mettiamoci pure il primo presidente dai tempi di Viola non vorrei parlare di politica però se lo stadio invece di metterlo in mano a Baldini a Parnasi e compagnia bella stava in mano a Cartaggirone eravamo fatti tre adesso le stati già mettici che questo qui in dieci anni in dieci anni non è riuscito a costruire uno stadio che solo in Italia potrebbe succedere solo a Roma manco in Italia perché a Torino cioè a Torino è scusami è venuto a mangiare la carbonara ma chi qual è il soggetto qual è il soggetto e e e quindi cioè il discorso è questo capito cioè che che a Roma cioè non 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 sei riuscito con dieci anni a chiude un iter un iter sono passate due amministrazioni tre sindaci cioè niente non sei riuscito a chiudere l'iter per uno stadio mentre in altre parti d'Italia si è fatto prima il stadio e poi hanno fatto la parte burocratica cioè questo è allucinante ripeto questa non è una giustificazione perché non hai vinto niente in dieci anni però io ce la metto ce la metto perché se intanto avevi fatto lo stadio tanto avevi fatto degli investimenti sono le 22 e 30 tanto poi alla fine cioè quello quello discorso lo stadio lo stadio lo parla nei fatti la Juve che per carità è già una squadra vincente e diciamo lo stadio è stata una cosa ampioe ha battuto tutti i record possibili di imbattibilità dei scudetti vinti e tutto ma ci stanno anche ad altre realtà a livello europeo ma basta vedere squadre pure inglesi che stanno a parlare proprio del top del top come qualità del calcio e di come si vive il calcio dove squadre anche meno blasonate dei top club e delle serie A con un buono stadio e una buona gestione riescono a fare risultati anche economici magari non vanno a Champions se mai magari giocano in Europa League ma ci hanno delle entrate assurde al di là poi che c'hanno il pubblico molto c'hanno comunque un discorso diverso però lo stadio conta cioè lo stadio è lo Sparti anche ormai di una squadra di calcio e questo per me rimane il grosso allimpio io ci rivediamo veramente Piero guarda ma in realtà non è finito niente perché tutto n'essere però ripeto comunque sia ora come ora se dovesse saltare il tutto è ricominciato tutto devi rifare tutta la conferenza dei servizi lo prendi lo prendi fai cara Raggi o chi sarà il sindaco di Roma perché ormai penso sarà finito fanno il mandato pure a Raggi e fate non ci avete fatto fa dieci anni o stati a Roma a Fiumicino cioè tu muovai a Fiumicino e al sindaco di Fiumicino io ti faccio lo stadio qua penso il terreno dove regala cioè guarda fa come te pare piedi Fiumicino o Fiumicino per di un posto X sì sì quindi ho un altro posto Valerio mi dice però parlate di Fregna ma vabbè adesso ogni tanto tocca pure fra video meno male meno male che non stiamo a parlare del governo insomma no no infatti non so perché non riesce alla chat tutto oggi un ufficio ho sistemato la chat e ora nesce vabbè come nesce la vedi tu no eh io l'ho staccata aspetta un attimo perché no no dico sul video non la vedo uscita non ti volevo far laggare diciamo il flusso audio quindi ho cercato no no ho fatto bene comunque ecco io ho ancora l'87esimo quasi 88esimo comunque sempre 2-0 quello spezia cioè capito quindi ho detto io non so di quelli fa tutto schifo tutto sbagliato perché comunque sia i soldi sono stati spesi la squadra ci si sono fatti investire però c'è sempre spalata tanta merda sopra sì a voglia cioè quello che a me è quello che non mi piace ci si è speculato tantissimo se sto fatto qua su fatti che poi in altre parti d'Italia o eccetera non non vengono vengono cioè se tu senti mai parlare cioè a parte ultimamente perché è veramente palese perché l'Inter a gennaio non ha comprato nessuno ma fino all'altro ieri ti sentivi ah l'Inter c'ha i buffi oh a Roma dicono sempre oh a Roma c'ha i buffi però mi pare che il mercato lo fanno sempre cioè non è che compramo i mega campioni però il mercato lo fanno a gennaio comunque avevamo comprato due o tre giocatori in questo momento storico che comunque è difficile perché i soldi in Cessana non girano con il fatto del covid e quant'altro il mercato è presente non ha comprato niente avrebbero fatto mercato a gennaio insomma si sono accorti che ora l'Inter c'ha i buffi perché praticamente il tizio cinese lì non ha coperto quello che doveva coprire esatto perché Conte se n'è uscito in conferenza stampa non comprava nessuno però capito tu hai mai sentito un giornale di Milano parla male dell'Inter del Milano su questo fatto qua economico mai mai qua mezza mezza cosa eh no però che ne so oggi abbiamo comprato Salah un articolo dopo però a Roma sta a deficit dei meno 100 milioni cioè capito questo è il discorso che non te non c'è una stampa che ti supporta una squadra così fai solo che avvelena la gente e quant'altro no perché si si poi che gli frega il giornale del nord e la gazzetta o tutto sport ha parlato di buffi da Roma io sta cosa non la capisco è perché 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 è semplice io parlo di buffi tua e non vedo le magagne mie non mostro le mie ma le magagne nascondiamo mezza sotto il tappeto non vedi che per 10 anni il Milano non ha comprato nessuno per 10 anni capito cioè assolutamente d'accordo capito cioè perché l'Inter ha speso i soldi ma il Milano per 10 anni non ha comprato nessuno però se tu sentivi ogni volta compravano un giocatore sembrava che avevano comprato tipo Dio Dionterra cioè a me mi viene troppo da rire quando ho letto i titoli di Barella perché aveva un buon giocatore cioè ma sembrava che cioè avessero comprato non che ne so Garrincia qualche miseria cioè si è vero tre minuti di recupero ah lo sai che mi era sfuggita sta cosa cioè mi era sfuggita perché lo so vedi in campo adesso non ci avevo ripensato che Manzukic Manzukic sì che il Milano c'ha Manzukic infatti avevo sbagliato prima avevo detto che ne aveva fatto mercato il Milano invece non ha ammazzato Manzukic ha preso vabbè Manzukic è come a Sharawai se sotto se sono riacquistati gli asuri perché se sono ovviamente elevati gli ingaggi faraonici di dove stavano perché sì sì certo era svincolato no sì stavano non mi ricordo che squadra giocava fai facciarlo poco svincolato come sinceramente prende guarda io pure sono dubbioso su Sharawai se non fosse che c'è un po' un debole per il giocatore perché prende un giocatore che comunque probabilmente non ha giocato fino adesso o comunque ha giocato in un campionato che non è oggi ho sentito un pezzo da conferenza stampa e ha detto che proprio non è pronto ma non è pronto proprio che non gioca manco un minuto cioè proprio fuori allenamento tra covid questo allenava a dubai in spiaggia capito svegliamo a mattina con il cappuccino e il cornetto e poi fai una corsetta esatto fai corsette in spiaggia venanno però insomma diciamo che non è che c'ha un fisico così no beh è un giocatore così diciamo prontente spero che comunque mi sembra un tipo abbastanza atletico è uno veloce il giocatore è abbastanza lungilineo certo per i miei ritmi di giocare un'ora e mezza in serie A ovviamente devi madonna attraversa della spezia eh no cacco io sto indietro ma è spoilerato eh vabbè tanto è finito è finito ha fischiato 2 a 0 invasione del campo da parte della panchina della spezia cacco forse la vedo adesso perché sto a 92 31 eh sì guarda lancione del Milan va bene la palla persa contro piede deo spezia quella vedi che fallo tra l'altro è un fallo tipo da rosso diretto proprio vai vedo vittoriona questa stavo a vedere un attimo ora mi ero un curiositore andiamo a vedere un attimo un po' la serie A come sta messa facciamo un attimo l'epilogo della giornata aspetta che prima avevo capito stavo a giocamanzo che c'è perché ora mi è entrato sto tarlo ah vai perché come sono ah l'Aldwail Aldwail ah ho capito 5 presenze 0 goal dell'altro ci ha fatto più presenze col Milan che l'Aldwail capito cioè capito che ti voglio dire c'è 5 presenze sì perché poi credo che quel campionato sia stato fermato per covid roba del genere su quei campionati poi non lo so è una mostra sparacazzate però penso di sì che ci sia stato qualche problema sì sì poi Manzuch c'è comunque dell'86 dell'86 quindi insomma noi è proprio diciamo gli scorsi stiamo sempre là che secondo me Manzuch quello che doveva l'ha dato cioè poi certo per carità sempre giocatore di esperienza che ti metti rosa però non è che puoi pensare che tutto ti può sempre andare bene come ti va bene con Ibrahim che comunque è un giocatore che sta sopra una certa media certo e ti riesce a vincere anche in un campionato che per forza di cose è brutto dillo ma praticamente non è non è il campionato che dovrebbe essere cioè la Serie A è brutto dirlo ma è così cioè comunque è un campionato abbastanza ridimensionato rispetto al passato allora vediamo che ci dice la Serie A allora guarda io te la non so se vorrei mettere questo al posto della cosa allora se vuoi lo mando io lo leggiamo insieme sempre se la mia connessione oggi sfociata anche la classifica si fa abbastanza interessante allora intanto non mi avvi i risultati che mi sembra la cosa allora gli risultati ci abbiamo partite giocate ieri Bologna a Benimento 1-1 arriviamo a partire che diciamo lascia il tempo che trova secondo me non so se qualcuno l'avvita forse tu parti di poi avrà fatto ricordi d'ascolti probabilmente sì partito perché non puoi esordir così francese è buono allora un po' di controllo Torino Genoa 0-0 che poi ancora devo capire che per una magnassa carbonara a casa di Francesco Napoli Juventus avevamo detto prima 1-0 e Spezia a Milan 2-0 sono le partite che apparentemente sono state giocate oggi e poi domani ci abbiamo alle 12.30 Roma Odinese che la Roma se non stecca la partita ha una buona possibilità riprende una classifica poi ci abbiamo alle 15 Sampdoria Fiorentina Cagliari Atalanta alle 18 Crotone Sassuolo Sassuolo ah c'è una partita che non mi aspettavo che non mi ricordavo vedi alle 20.45 Inter Lazio praticamente il derby con la prima squadra di Milano e la terza di Milano esatto oh no e poi invece lunedì perché ormai la partita del lunedì non ce la manca mai la partita che è una Parma che non è manco una brutta partita secondo me squadre che giocano bene anche se poi a livello dei rose sono un po' povere perché il Perona l'hanno smontato il Parma a Gervinio pure c'ha 47.000 anni ormai quindi io vedo pronostico un 3-1 Verona dici eh proprio così secco sì per me andiamo a vedere la classifica che è successo con la partita di oggi era esatto vediamo un attimo perché ci sono delle proiezioni interessanti ovviamente che c'è una partita in più si è fermato a 49 punti l'Inter a 47 e potrebbe comunque non legge nessuno la tua chat chi è Francesco ma che cazzo le so facciamo questa magna carbonara ma che vuoi no ho pure letto pure risposto esatto infatti chiedo l'Inter potrebbe far il sorpasso attenzione domani potrebbe essere il sorpasso dell'Inter cioè se dove si vince ovviamente che è domanda secca domanda secca Inter Lazio che risultato non ha quello che ti aspetti ma quello che ti piacerebbe vabbè qua è difficile lo sai esatto molto difficile è difficile perché forse penso che l'Inter è una squadra che odia di più del campionato italiano a dire più della Lazio più della Lazio più della Juve veramente sì perché secondo me in percentuali l'Inter ci ha più rubato più l'Inter che cent'anni di Juve per ditte come sto parlando da romanista però io l'ho vissuto di malissimo quel periodo lì dove loro erano bottiti dei campioni nonostante tutto in un certo senso li abbiamo scoppiati un paio di volte ci hanno rubato una Coppa Italia con Ducon fuorigioco porca miseria e comunque uno scudetto all'ultimo minuto cioè gli ultimi minuti dell'ultima partita le utile se non avessimo fatto noi un po' destronzate ovviamente però mi ricordo che quando stavano in difficoltà c'erano sempre poi per carità con squadrona cioè però diciamo che l'unica squadra non è stata imbischiata mai in niente che è stranissimo in tutto quel discorso del calcio scommese e quant'altro vabbè però non voglio essere troppo tifoso no però io qua è una partita che a me non te lo so per i dico quali risultati mi piacerebbe di più quello che prevedo io penso un 2 a 2 un 2 a 2 perché comunque la razza la vedo carica quindi c'è un punto però l'inter secondo me non è così forte come sembra e ci potrebbe stampareggione secondo me così ma butto lì però non ho capito se mi hai risposto però su quello che invece tu vorresti no questo è quello che prevedo ma quello che vorrei è difficile perché non ti saprei sceglie però preferirei guarda ti giuro preferirei vabbè però non è che puoi fare un ragionamento del genere adesso mancano un casino di partite ormai ancora e quindi non è che una sconfitta una vittoria da Lazio così a breve potrebbe cambiare chissà che cosa potrebbe essere abbattuta del resto ma cioè non lo so io così a gusto mio cioè nel senso proprio dove si gode proprio di una sconfitta augurerei all'Inter sinceramente ma non perché io voglio arrivare al posto dell'Inter perché è proprio una questione proprio delle pelle cioè io sinceramente i calcoli da classico non me li faccio perché non la Roma dice che lui arriva in pareggio ma io più che altro lo lo aus cioè non è che lo aus ho il sentore che finisca dalla luce non so perché allora dunque l'Inter comunque c'è l'occasione di andare a testare la classifica quindi penso si va a far scappare non si aspettava ma penso alla sconfitta della Juve è il discorso che stavamo a fare stamattina l'Inter c'ha l'obbligo di vincere lo scudetto ah certo certo cioè se l'Inter non vince lo scudetto è un fallimento certo le due squadre che sono partite per vincere lo scudetto sono l'Inter della Juve parliamo seriamente le due squadre accreditate sono l'Inter della Juve con le cose migliori l'allenatore migliori c'è l'obbligo dell'Inter è vincere lo scudetto cioè io non mi aspetto che non puoi giocare con pareggio con una squadra che sta al sesto posto in classifica poi per carità si però allora aspetta io ti dico le aspettative non mi sembra neanche uno conte che sta contenti del pareggio ma no è che secondo me l'Inter non è così squadra ok non può fare troppo affidamento diciamo che non ti dà la sicurezza a mani basse sulla Lazio poi non lo so domani magari quando una partita la Lazio sta a forma quante sta a 5-6 partite vittori la Lazio è una squadra che gioca da X anni quei stessi giocatori che ormai se si conoscano a memoria con un allenatore che comunque è un forte motivatore io non mi fa impazzire il modo di allenare Inzaghi però gli riconosco che è uno che comunque è un buon allenatore no lavora lavora benissimo con il materiale che c'ha riesce a tirare fuori forse anche il 101% dai propri giocatori dal materiale che gli viene dato a disposizione poi la Lazio gioca su quei 3-4 giocatori che deve sperare che da qua alla fine del campionato non gli apriamo ancora un raffreddore perché stanno lì no chiarità però per dire questa fa un ragionamento prettamente tecnico proprio cioè hai una squadra buonissima che però secondo me c'era sempre una panchina corta e si è visto si è visto l'anno scorso quando hanno cominciato a dover fare tre partite nell'arco di una settimana si sono visti i limiti della Lazio che prima del covid stava a un punto dalla prima mi pare un lì per lì e poi si è visto quando hanno cominciato a giocare tre partite una partita di personalità ce l'hai i problemi escono fuori è normale è normale che poi va avanti la squadra di voi che non c'ha 11 titolari ma magari ce n'ha 16 17 quello discorso stesso ragionamento cioè per ditte paradossalmente c'ha più rosa l'Atalanta che la Lazio sui ruoli cardine c'è nel senso che se l'Atalanta gli manca una punta ce n'ha un'altra tre capito io invece lo vedo difficile un'eventuale sostituzione a lungo termine ed immobile per dire alla Lazio giocavo 13 giocatori la Lazio c'ha 13 giocatori però io adesso a bocce ferme adesso cioè se tu tessi di che la Lazio va a Milano e Scaglia no secondo me no sarà una partita dura se la vince comunque se la deve giocare capito e quindi comunque l'Inter c'ha una buona occasione domani deve saltare la classifica e il Milan comunque il Milan comunque è un contracorpo da sta sconfitta perché comunque Roma va a tornare a terzo posto la Roma se dovesse vince va a 43 punti e sì risorpasserebbe la Juventus esatto e quindi diciamo come vedi un campionato comunque non è è quello che ti dicevo io stamattina no non è un campionato che si è vista la cioè a scuola che se n'è nata perché me sto uncazzando tanto torno su sulla sulla altra scena e perché io mi incazzo fondamentalmente poi comunque continuano a non vedere la chat io non capisco perché è successo vabbè e ci ha funzionato questo tutto oggi la chat però niente vabbè e ho fatto l'audio con la chat sì leggiamo dai un po' la chat che è sta cacciara bella Andrea bella grande no niente se cazzeggio stasera fra pallone e pallonate quindi mo stiamo a parlare di pallone poi potrebbe succedere di tutto quindi se c'è dei argomenti vi rispondiamo ben donde e tra l'altro volevo fare presente la nuova grafica del canale a Francesco se si ricorda dove stavamo quando ho fatto sta foto ti dicevo questo è il discorso di stamattina come si fa a contestare un allenatore che con tutti i dubiti scongiuri domani vince e ti ritornano a totta terza in classifica quando c'è una classifica cortissima che tra la la Roma che c'ha 40 punti in Napoli c'ha 40 punti la Juventus c'ha 42 punti quella che sta in classifica con una partita in più vabbè ovviamente Napoli la Juventus ce n'ha 49 sono 3 partite esatto due partite sbagliate due pareggi ecco quello che non riesca c'è ancora lo scontro diretto c'è ancora lo scontro diretto ci stanno le facce forse non si vede nulla che vuol dire ma da quella cosa blu da quella cosa blu capisco che è Stoccolma vabbè ho capito siamo più tu so la foto e ce l'avevamo noi ma ammazza la foto però si vede Francesco io aspetta forse è così la vedi aspetta no vabbè oddio c'è stato io un po' più grosso quindi non è che si capisce tanto sì comunque a Stoccolma Francesco se ti ricordi la stazione centrale della metro di Stoccolma del treno di Stoccolma e no sì che poi tra l'altro la cosa che mi fa impazzire questa foto sono il cantiere intorno alla piazza cioè se ti fai caso sono tutte gru perché nel frattempo costruivano cose quindi molto sabbia la piazza piena di ubriaconi esattamente esattamente sto col telefono no ah con lo schermo piccolo ok e quindi è quello il discorso che facevo io che mi pare assurdo allora perché allora io leggo ancora qua la classifica con la partita ovvio domani pure la Roma è costretta a vincere perché se puto a caso non vince l'Udinese in un'occasione del genere che poi scavalcava l'Ue aprite cielo però voglio dire l'Udinese i punti suasi è fatti nelle ultime quattro partite due vittorie e due pareggi direi che può pure perte insomma no no nel senso dicevo dell'ambiente quello che tutti mi mettono scusa sì è vero l'ambiente romano non dico che influisce che influisce sul calciatore perché al calciatore se ne sbatte per cazzo sinceramente perché guadagna i sordi vince o perde la sera torna a casa con Ferrari con Lamborghini sai che potevano succedere queste cose tipo per esempio a Totti o a De Rossi che non potevano girare per Roma dopo una sconfitta perché perlanto gli piavano a caccia la macchina e tante volte hanno sono state situazioni che se poi tu senti i loro i loro discorsi Andrea è meglio il golf però saprei cosa dirti del golf Andrea cioè sinceramente tranne che si usa una mazza per le palline io sono un grande appassionato di videogiochi di golf eh videogiochi di golf è quello pure ma l'amico tuo mi sono installato penso probabilmente l'unico in Italia che si è comprato un nuovo gioco di golf di Tiger Bud sì che ma non c'è stato più è vivo ancora la 2K la 2K quella che fa i giochi pure dell'NBA è carino spaghetti era lotti mi sbaglio come no grande cartone che poi che poi sarei curioso di vedere la versione giapponesi che cazzo dice che cazzo dice direi spaghetti quelli loro una lingua loro ma come che schifo è che quanto si tronzo buonasera Patrizio ma è schifo anche tu Patrizio e calla andremo così esagerato comunque il discorso che facevo vabbè andremo è un provocatore il discorso che facevo è che è questo che mi spaventa a me no perché allora secondo te no allora più o meno pari punti perché io vedo la Juventus sta a 42 la Roma a 40 con una partita con una partita le stesse partite perché ha recuperato non so la Juventus non sbaglio no ancora deve recuperare ancora deve recuperare quindi vabbè ci potrebbe avere 3 punti più ipoteticamente quindi potrebbe sta a 45 però se tu parlano di Pirlo Pirlo è Dio è Dio in terra parlano di Fonseca è pare uno scappato di casa ma porca miseria ma perché perché io ripeto dove stanno questi grandi allenatori in Italia levato Guardiola che e quei 2-3 allenatori che girano per il mondo tipo club roba del genere dove stanno veramente volevo paragonare un Gianpaolo o un Fonseca dai per favore io queste cose non le reggo non le reggo proprio no è vero è vero invece devi venire online a giocare sta qua a chiacchierare come i vecchi al bar dello sport beh lo spirito è quello però anche se siamo vecchi a giocare poi c'è sempre tempo sono le 22 e 56 un giretto a volta lo potevamo sempre fare un po' che mai siamo abilissimi giocatori di volta io e Patrizio ecco buonasera Lino grandi siamo qui a sparacazzate quindi è molto free la sera la storia solo che ho stato tutto il pomeriggio fa funzionare la chat ma non appare non capisco perché non so che devo fare ma affatti è strano oh ma hai visto l'avevo provato insieme ma è decine sai e dai prova a farla prova a farla adesso prova a toglierla e rimetterla sulla scena eh sai che ho paura tipo che mi si sfascia tutto no no non si preoccupa non succede niente vai ma toglia tu e proprio elimina elimini l'oggetto e lo ricopi da un'altra lo prendi da un'altra parte e lo rimetti tranquillo vai si si guarda tu ah dai già stacchi ma è sabato ma dove vai dove stai che stacchi mamma mia già sta a far cosa poi dici a me che sono vecchio ah via intanto ma è la pia ma è la pia una cosa da bere mi sto morendo sede ma io infatti mi ero preparato e ho anche il mio bicchiere di coca cola torno subito ma è veramente sì è vero vengo dal tempo delle cabine telefoniche però faccio il mio lavoro è fare il social media manager e occuparmi comunque di tutto ciò che va online quindi diciamo che nel frattempo qualcosa mi dovrei essere imparato so che oggi pomeriggio avevo sistemato tutto ma a quanto pare si è sfranto appena appena sono andato online perché forse ho dovuto riavviare la macchina e non si è salvato qualcosa vediamo se riesco a ripistinare la cosa rieccomi a france mamma mia ciao ciao va a dormire mamma mia niente l'ho rimessa poi ovviamente non so che dimensioni sarà sarà qualcosa di obbrobioso però secondo me non funziona uguale ci doveva stare qualcosa che non andava stasera no? si infatti niente non appare boh non so cosa sia successo cioè ha funzionato fino a poco non è che l'hai messa non è che sta sotto lo sfondo no no è proprio soprattutto ah ok sta soprattutto come cavolo è possibile ma è strano infatti boh prova un po' sulle proprietà della chat vai sulle opzioni in basso c'è tipo aggiorna cash una cosa del genere prova un po' sono le ore 23 5 spettatori comunque e tra le cui il francesco che si è andato a letto perché Francesco è così ormai non regge più vabbè Francesco no lo trovo il giorno che esce perché ovviamente io ho qualche cosa di differente dal tuo ovviamente aspetta aspetta vediamo se riesco e vabbè dai non fa niente caricarla ci può c'è sì sì no vabbè Francesco che mi dice il telefono scarico lo metto un po' in carica se tra mezz'ora c'è stata ancora se no se non me so dormito rientro e quindi ce lo vediamo domani Francesco allora devi andare su sulle impostazioni alla voce apri le impostazioni della chat e vai su grazie grazie grazie